Buongiorno e ben trovati, sono Domenico delle Fontane della Remax della Polare e oggi ci troviamo a Bari in zona San Paolo per vedere insieme un nuovo appartamento posto sul mercato immobiliare. È un Trivani ubicato in un contesto condominiale con alie a verve e zone a parcheggio. Andiamo a vederlo insieme. Eccoci qui, la casa che oggi vi presento si sviluppa con una planimetria molto razionale, ad accoglierci abbiamo questo soggiorno a vista molto comodo che ha una faccia sul primo balcone e quello che vi faccio notare è questa illuminazione a led che lo arricchisce. Il soggiorno comunque rimane indipendente dalla zona cucinotto che adesso vediamo. Questa casa, come potete notare, è parzialmente a redata e si vende così come è, anche con gli aredi che vedrete, sono inclusi nella vendita. Come vi dicevo abbiamo un bel balcone trazzato e ciò che vediamo in questo momento. Proseguiamo la visita di questo appartamento andando nella zona notte. La zona notte è ben disimpegnata con ripostiglio, bagno, con il suo antibagno e le due camere a redta. Mentre la cameretta ha affaccio con finestra, la cameretta matrimoniale ha affaccio sul balcone trazzato che abbiamo appena visto. La camera da letto è collegata da una cabina armadio. Anche la cabina armadio, così come gli altri aredi che avete visto, è inclusa nella vendita. Come avete potuto notare, questo appartamento si presenta in buonissime condizioni, sia per quanto riguarda le finiture, sia per quanto riguarda gli impianti. Abbiamo l'impianto di climatizzazione centralizzato, impianto d'allarme, infediate in tutte le aperture. E poi questo bel balcone terrazzato, molto vivibile. Vi ricordo che l'appartamento ha due pertinenze, un posto auto di proprietà e un box auto al piano interrato. Non vi resta che contattarmi, se volete visionarlo di persona, chiamatemi e a presto.